Il 17 di febbraio è una data molto importante perché torna il track della Polizia di Stato che aiuterà a capire meglio ai ragazzi un po' quelli che sono i rischi della rete ma che la rete, se utilizzata bene, può essere anche un valido alleato. Diciamo che è un periodo, è una fase molto importante per il nostro settore ed è stata da poco costituita la direzione cibernetica dove appunto noi facciamo parte come sezione e queste iniziative mirano appunto ad avere quanti più incontri possibili soprattutto con gli istituti di vario genere sia per esempio in occasione dell'evento di Sarzana del 17 incontreremo le classi del liceo scientifico quindi una fascia di età più alta, ancora più sensibile e quindi sono occasioni veramente importanti dove non solo illustriamo il lavoro che facciamo ma come diceva giustamente lei cerchiamo il più possibile di sensibilizzare i ragazzi a un corretto uso della rete a illustrare quelli che sono i pericoli ma comunque anche a far capire quelli che sono anche i vantaggi della tecnologia tutto sta nel corretto uso che se ne fa dei propri account e delle proprie consultazioni sui vari siti